Iniziano a essere frequenti gli incendi dolosi che si stanno verificando nell'ultimo periodo a Gela. A tal proposito è stata una notte calda, quella appena trascorsa, nel comune in provincia di Caltanissetta. Nella fattispecie un'auto è stata distrutta dalle fiamme intorno alle tre di notte in via Cascino. L'automobile, una Range Rover di proprietà di una commerciante, era parcheggiata a poca distanza da un vecchio rudere della zona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Dalle prime analisi effettuate sul luogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Le indagini intanto sono state affidate ai carabinieri che hanno iniziato le prime analisi per fare luce sulla vicenda.